Vedi lo, le cose sono cominciate da ste parti, dietro a quel palazzo nella, eravamo io, Luca Lorusso, ero palletta, ero parolo in girucco, che qualsera ci ha lasciato di repente. E' amo cominciato là dietro a rubare la macchina. Forse qualsera dovevamo capì, era insegna. Era una sera come questa, roccioso, pioveva, una luce poco sincera. Eppure stessimo sempre detti che era meglio rubare la macchina che timbrare un cartellino per tutta la vita. C'avi ragione tu l'ho, quella sera era meglio se stai andando a fare due canne in villa. E mi ricordo che il povero rucco voleva andare a scopare, il povero rucco voleva andare a scopare, voleva andare da quella che diceva che era bella, che ci aveva due tette enormi e noi lo pivavamo per culo. No, andavamo a rubare la macchina. Forse se io e te si andavamo a fare i canne, il rucco andava a scopare quella sera. Oggi stavamo a timbrare un cartellino. però stavamo a fare tutte e tre. Magari qua dopo trent'anni, con tutti i sti rumori tutta assaggendo, la canna se la fumavamo tutte e tre. Ciao l'ho. Ciao. 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 Ciao.